Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con una breve lezione e prima di iniziare voglio dare tutti l'odi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro salvatore e rendentore Yahawa Shai e nel nome dello Spirito Santo Rukha Akudash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra che stanno facendo sì che questa verità possa arrivare ripetuta e anche a coloro che con sincerità cercano di sapere questa verità. Shalom. Come vedete qui questo mi l'ha inviato un amico e vedete questa è la RT la Russia Today e sono conosciuti per diffondere per diffondere delle cose che la tv non vuole far vedere o le altre piattaforme commerciali e qui c'è scritto il Vaticano afferma che i dipendenti che rifiutano il ma il v che devo censurare se non mi bloccano il canale il vaticano afferma che i dipendenti che rifiutano il v c 19 potrebbe perdere il lavoro che questo è quello che dalla forza del padre Yahawa Baha Shem Yahawa Shai abbiamo cercato di predicarvi tutti questi giorni qui di aprirvi gli occhi e mettervi in guardia che sta arrivando questo momento questo momento sembra che non succede nulla ma stiate attenti che sta arrivando proprio il momento della distesa di Giacobbe e pensate se loro iniziano nel Vaticano pensate che il Vaticano è un modello una sorta di modello per il paese dal Vaticano sarà una legge che tutti gli altri che devono fare tutti dovranno copiare il Vaticano e dovete capire come come muovono queste persone qui perché sono dei figli dei malvagi i figli di Satana e Satana è un essere molto furbo intelligente va attorno va attorno come un serpente e tutto all'improvviso boom morde la gente ormai è condizionato a seguire questi profeti falsi ok come vedete non sono altro che i Gesuiti e se andate a vedere bene la storia dei Gesuiti sapete che non sono altro che nemici della verità ok leggiamo un po qui e prendiamo le scritture il Vaticano affermato ha effettivamente reso obbligatorio la v contro c 19 per i suoi dipendenti avvertendo coloro che rifiutano di ricevere il colpo che potrebbero rischiare il licenziamento in un decreto di sette pagine il cardinale Giuseppe Bertello capo della commissione per il governo della dello stato della città del Vaticano affermato che ottenere il capo il colpo è stata la scelta responsabile e che chi si rifiuta di farlo potrebbe rischiare la risoluzione la linea guida guida indica una legge del 2011 che prevede che i dipendenti che rifiutano le misure preventive possano essere disciplinati nel 2011 come che sono da molti anni che stanno preparando già questo colpo di scena che sta succedendo oggi hanno già riformato la legge quante volte hanno messo la legge che potranno andare bene per questi tempi che siamo per loro perciò hanno già messo questa legge come vedete qui hanno già messo giù la legge che i dipendenti che rifiutano le misure preventive le misure preventive possono essere disciplinati e quei disciplinati si intende licenziamento ok ora prendiamo velocemente le scritture qui abbiamo matteo capitolo 7 e 15 attenti ai falsi profeti che vengono da te in vesti di pecore ma dentro sono lupi rapaci ok queste sono le parole del nostro amasciac yahawashai dobbiamo stare attenti come avevo detto prima sono i fili guidati di satana stessi veri fili di satana e loro muovono furbo furbamente sono davvero furbi intelligenti ok e fanno tutto con calma con tutta la pazienza di questo mondo si chiama gradualismo un passo a volta per fottere il mondo ma coloro che conoscono il padre possono sperare nel padre e saranno salvati poi abbiamo libro di levetico che ci ha già messo il padre ha creato già una legge su questa cosa qui che noi non dovremo fare nessun taglio nella nostra pelle ok nella nostra carne qui capitolo 19 del libro di levetico versetto 28 dice non farai tali nella tua carne per i morti né in prei merai alcun segno su di te io sono il signore yahawash perciò noi non dovremo fare nessun taglio nella nostra pelle è contro la legge che ci ha dato il padre e tra l'altro sapete tutto quello che è dentro il veleno che stanno dando alla gente sono delle cose impure che noi d'accordo ai comandamenti che ci ha dato il padre non possiamo introdurli nel nostro corpo dentro ci sono fetti di bambini abortiti grasso di maiale alluminio e diverse cose ho già fatto una lezione riguardo questo ora non mi ricordo se in inglese o no perché questa cosa sono stati portati proprio davanti al giudice mi hanno parlato su quei sui componenti di questi v che danno alla gente rimarrete proprio stupiti scioccati da tutto quello che mettono dentro questa roba qui perciò se noi abbiamo i padri faremo tutto per non perdere questo se non la prendiamo sapete com'è saranno tempi duri per noi perderemo il lavoro e tutto dunque coloro che hanno l'occhio singolo verso il regno del padre non avranno nulla da perdere ok qui libro di geremia capitolo 30 versetto 3 dice ahimè poiché quel giorno è grande così che nessuno è uguale a esso è anche il tempo dell'angoscia di Giacobbe ma ne sarà salvato questi sono i tempi che stiamo arrivando saranno tempi davvero durissimi tempi impossibili perciò come dice il libro di Isaia cercate il padre mentre lo si può trovare tempi davvero durissimi stanno arrivando detto questo spero che siete stati edificati lascio tutto anzi per chi vuole vedere se mi ricordo lascerò il link sulla descrizione di questo video qui per chi vuole leggere tutto allora qui ho la traduzione come vedete qui sul chrome e allora riesco a tradurre tutto in italiano detto questo lascio tutto nel sacro nome del padre nel nome del suo del nome del padre Yahawa nel nome del suo figlio Yahawashai il nostro res e il rendentore doppio onore agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala alla prossima Shalom ciao a tutti Grazie.